Musica Ciao a tutti, è appena arrivata la nuova scheda video la Asus HD 7970 Direct CU2 DOP che è la nuova scheda video con cui io farò i prossimi video da ora in avanti questo sarà soltanto un unboxing di questa scheda video per la recensione dovrete aspettare il prossimo video sempre se riesco ad aprire questa scatola sì, sì, sicuramente taglierò abbiamo qui, cosa abbiamo? il nostro CD di installazione è driver manuali tutto il manuale della scheda video, sì cominciamo con, vabbè, capi, cavetti, adattatori chiaro cavetta per il crossfire altre cazzatine varie ma finalmente, cosa più importante, è la nostra scheda video ed ecco qua, questa è la scheda video con due nostre belle ventole qui sì abbastanza pesantuccia, devo dire va bene, che dire io vi ringrazio per aver guardato questo video e vi rimando al prossimo video dove faremo una piccola recensione di questa scheda video e che dire, grazie per averci guardato e alla prossima, ciao